Ciao, sai descrivere il tuo stato d'animo in italiano? Ascoltiamo una storia. Il sole sorge, che bella giornata! C'è un vento leggero e marzo fa fresco. In strada le persone scherzano, respirano, parlano, vanno avanti e indietro. E Tommaso, Tommaso è a casa. Non nota il sole, il cielo, le risate. Guarda soltanto il telefono. Guardo il telefono. Le immagini scorrono. Le emozioni di Tommaso cambiano. Prima è allegro, poi è serio. Poi è divertito, poi è infastidito. Pensa, sono annuiato. Ora invece sono curioso. Ora sono perplesso. Forse sono anche un po' nervoso. Sono così concentrato che Non sento le lancette dell'orologio. Tommaso guarda un video. Guardo un video. Cosa provo? Cosa prova? Prova gioia. Provo gioia. Sono gioioso. Poi legge un commento. Il commento è pieno d'odio. Cosa sente Tommaso? Sente un po' di rabbia. Sono arrabbiato. Sono irritato. Tommaso entra in un forum. Ci sono discussioni accese e parole rancorose. Tommaso sente un po' di tristezza. Sono triste. Non sono felice. Mi sento scoraggiato. Mi sento insicuro e solo. Non mi sento motivato. Tommaso sente una tempesta di emozioni. Intanto la stanza è immobile. Tutto è calmo e immobile. I mobili. I soprammobili. Tommaso sente un po' di rabbia. Il tavolo. Le sedie. E anche la polvere. Fuori il cielo è sereno. Il mare è calmo. Tommaso ha fame. O fame. Ma il frigo è vuoto. Che noia. Devo uscire. Tommaso prende il telefono, le chiavi e poi esce. Esco di casa. Mentre cammina, legge i messaggi e le notizie di oggi. Guarda un po' la strada e un po' il telefono. Sono un po' distratto, ma di tanto in tanto faccio una foto. Tommaso fa una foto. Poi arriva una notifica. C'è un nuovo messaggio. Tommaso risponde. Ma mentre scrive... Qualcuno suona il clacson. Tommaso si spaventa. Mamma mia! È spaventato. Il cellulare cade per terra. La macchina passa. Passa sopra il telefono. Una donna apre la portiera. Mi scusi. Mi scusi tanto. La donna è imbarazzata. È dispiaciuta. Il telefono di Tommaso è rotto. Improvvisamente Tommaso guarda intorno. Il tempo è bello. Il cielo è così chiaro. E la piazza è piena di persone. Tommaso vede un bambino allegro, una bambina allegra. Poi vede donne allegre e uomini allegri. Vede un uomo di fretta, una donna in bicicletta. Vede anche persone accigliate e persone spazientite. Nella piazza qualcuno è pensieroso. Qualcuno è concentrato. Un uomo è rilassato e sorridente. E una donna è rilassata e sorridente. D'improvviso alcuni piccioni volano. Sono sorpreso. Una donna entusiasta corre. Un bambino felice corre. Non sono più diffidente. Sono più fiducioso. Pensa Tommaso. Lì vicino qualcuno fa le bolle di sapone. Un uomo suona una chitarra. Una coppia balla. Una coppia di anziani cammina mano nella mano. Tommaso come si sente? Si sente ispirato. Pensa. Sono emozionato e motivato. In un marciapiede c'è un cane assonnato. Non sono più così preoccupato. Sono più spensierato. Mi scusi davvero. Quanto le devo? Chiede la donna. Voglio ripagare il danno. Tommaso dice. Non c'è problema. A dire il vero. Ora mi sento meglio. Passiamo troppo tempo al telefono. Non notiamo neanche una bella giornata. Da bambino leggevo molte fiabe. Nelle fiabe gli eroi uccidono i mostri. Combattono con la spada. Ma in realtà le armi non risolvono i problemi. Le parole e l'altruismo risolvono i problemi più grandi. I principi e le principesse a volte sono distratti. Le principesse a volte rompono i cellulari dei passanti. I giornali e i libri non parlano di queste cose. Ma non sono meno importanti. La donna sorride. Beh, ha ragione. Ma voglio ripagare il danno. Mi dispiace tanto per il telefono. Tommaso dice. Va bene. Allora. Qui vicino c'è una gelateria. I gusti sono davvero inusuali. C'è perfino il gelato all'ortica. La donna dice. Che coincidenza. Lavoro proprio lì. Sono una gelataia. Prego. Oggi offre la casa. Ti è piaciuta la storia? Lascia un commento. Lascia un mi piace. E iscriviti al canale. Ciao. Ciao.